La libreria dei materiali è un progetto di Flaplus a cui abbiamo collaborato come Materiali che si occupa di creare un contenitore di materiali con caratteristiche di sostenibilità che possono essere utilizzati nel settore legno arredo. Il database è strutturato per mostrare le caratteristiche di sostenibilità dei materiali raggruppate in cinque macrogruppi che riguardano il contenuto di materia prima, i processi produttivi, la riduzione della tossicità, la sostenibilità in applicazione e la compliance ai criteri CAM 2022 e inoltre anche la presenza o meno di un LCA e quindi della carbon footprint dichiarata del materiale. Le aziende associate a Federlegno Arredo possono consultare questo database ricercando i materiali per una serie di criteri che riguardano il formato in cui questi materiali sono disponibili, lastre, pannelli, tessuti eccetera, la composizione oppure ad esempio la presenza di determinate certificazioni che possono essere utili per migliorare le caratteristiche di sostenibilità del proprio prodotto.